Oggi è l'inaugurazione della casa del dolle, l'avete chiamata, no? Sì, certo. Dopo 13 anni questa struttura l'abbiamo risistemata, ristrutturata, completata per quelle parti che non siano messe in posizione e l'abbiamo resagibile per poterla mettere la disponibilità istituzionalmente a fondo. In questa struttura ci saranno 5 società che si allederanno e giocheranno proprio perché creare questo movimento importante che c'è il modico oggi credo che deve essere supportato dall'amministrazione e quello è quello che è. Compreta questa struttura, già cominciano a chiedere per esempio l'aumento del pubblico e allora in questa prima fase che è il vincolo dei cento posti per quanto riguarda la prima autodossessione, ma stiamo lavorando proprio per aumentare l'angibilità per un numero superiore anche perché lo chiedono perché ci sono tanti che vengono a seguire i partiti e quindi lavoriamo in questa direzione, faremo anche in estate, intenderemo anche fare l'instandamento ed è un andare avanti in quello che è l'investimento per questo sport che lo merita per l'endarmotica per il movimento metterla. Quanto avete speso per prenderla usufruibile? Già questa attività abbiamo scelto quasi 40.000 euro per poter rendere la città. E pare se ne vogliono altri 20.000 per l'impianto di stagamento che a terra? Senza problemi, è una questione di tempo, ma le faremo in estate e faremo anche questo. Ma lei che sport faceva quando era giovane? No, ma io ho fatto il tiravolo agonistico perché sono stato squadra nazionale e unionista di tiravolo, forse olimpica, quindi tu mi porti il cielo nelle ossa. Comunque con il volley non c'è? No, il volley non c'è. Però il modicano, il volley è il modico funziona. Il modico funziona. Scherma, modi, scherma, molle. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.